Avete fallito, trovatela. Ho una missione. Sarà una passeggiata per te. Quando si comincia. Vai, vai, vai! Non si fermerà finché non si sarà vendicata. L'avete fatta arrabbiare. Vuoi dirmi adesso perché mi avete incastrata? Oppure più tardi quando avrò le mie mani intorno alla tua gola? Non ho mai fatto fuori una donna. Se pensi a lei come una donna, ti sbagli. L'avete fatta. L'avete fatta. Grazie.